Un grande applauso alla prima dell'esterno olimpico che vi presento, il gigante Luca Giustolisi! Luca abbiamo visto grandissimo interesse e grande entusiasmo da questi bambini durante i vostri racconti. Ma penso che sono storie che possono suscitare interesse perché sono state vissute con grande passione e nel momento in cui noi in qualche modo ricontattiamo questa passione credo che il messaggio al bambino arrivi preciso. Un episodio molto divertente di questa mattina con Ibi, pensate che qui all'interno degli studenti che sono venuti ad ascoltare le stelle olimpiche per questo bellissimo progetto c'era anche un tuo allievo che si sta comportando molto bene per quanto riguarda ovviamente la disciplina dei tuffi. Sì esatto, è stato interessante parlare a un mio allievo e vedere che anch'io avevo la sua età e tutti i percorsi che è ancora davanti e spero che lui avrà la perseveranza per percorrerla perché è molto bella. È stato bello trasmettere questo messaggio. Professoressa Roberta Gasperini della scuola primaria Gioti di Trieste, grande entusiasmo a questo primo incontro con le stelle in classe, i bambini molto attenti, anche molto volonterosi per fare le domande a questi grandi campioni dello sport. Sì, davvero si coglieva un grandissimo entusiasmo e incantati dalla presenza di questi grandi atleti che non solo hanno vinto ma hanno saputo trasmettere quelli che sono i valori dello sport. Non potevano farlo meglio, si può vincere ma bisogna anche saper trasmettere quello che si è vissuto e sono stati un modello, sono un modello da seguire. Ce ne fossero di più che vengono a scuola a raccontarci le loro esperienze sarebbe davvero importante perché i ragazzi di oggi hanno bisogno di modelli come questi, da seguire e che credono veramente nel valore dello sport fatto in un certo modo e vissuto come loro, proprio come un valore pregnante. Quindi grazie, grazie per aver scelto la nostra scuola, non possiamo veramente, non abbiamo parole per ringraziarvi. Ora la nostra maglietta firmata farà parte ufficialmente dei reperti che resteranno qua per sempre, firmata da voi e da loro e grazie anche a te per la fantastica presentazione. Grazie. Grazie.